Ciao a tutti, mi chiamo Lorenzo, vi sto parlando dalla sede della Yamaha in officina. Nuovo T-Max 2017, ricco di elettronica come le nostre super sportive. Gas elettronico. Grazie a questo controllo, la valvola farfalla ha sempre la giusta apertura. Il controllo elettronico del gas permette anche di utilizzare un controllo di trazione elettronico molto sofisticato, molto simile all'emoto GP. Quando c'è un eccesso di coppia, il software per ripristinare il grip non fa altro che ridurre l'angolo farfalla e quindi non fa altro che decelerare a posto del pilota. Il T-Max è fatto anche per l'autostrada. La usita del gas elettronico permette anche di adottare il cruise control, una funzione molto comoda che permette di impostare e memorizzare la velocità di crociera e con uno switch posto sul comando sinistro anche di fare una regolazione fine della velocità. La nuova smart key del T-Max 2017, come prima, gestisce l'apertura della sella, il comando del quadro e il blocco a sterzo elettronico. Stavolta gestisce anche il blocco a cavalletto elettroattuato, che come blocco a sterzo elettroattuato è un ulteriore deterrente a furto. Riprogettando il terraio da zero e quindi avanzando il motore di 50 mm, è stato possibile aumentare la capacità di carico del vano sottosella. A oggi possiamo mettere un casco integrale e un semi-jet oppure due semi-jet. Il T-Max, nella sua lunga evoluzione durata 15 anni, ha presso in totale 18 kg. Pensate che solo 9 l'ha presso con questo modello. Il nuovo T-Max viene proposto in tre versioni. La versione standard, la versione SX, più sportiva, e la versione DX, più lussuosa. Tutte e tre le versioni sono predisposte all'installazione dell'interfaccia del D-Air, la giacca airbag della Danese. La versione SX, quella più sportiva, ha un allestimento grafico dedicato e in più è dotata del controllo delle mappature motore, quello che fanno cambiare carattere da sportivo a più turistico. La versione DX, quella più lussuosa, ha altre dotazioni, come il controllo elettronico della velocità, cruise control, come le vetture, il parabrezza regolabile in altezza, a sistema continuo, derivato dall'ammiraglia FGR-1003. In più è dotato anche del molo ammortizzatore regolabile nel precarico molla e nel freno idraulico in estensione. Il T-Max DX è dotato anche di manopole riscaldate e sella riscaldata. Un doppio lambeggio a tutti, ciao!